www.venetoglobe.com In onda sul canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia Andiamo subito a vedere le principali notizie per oggi prima dei nostri servizi Cominciamo dalla nazionale di basket maschile che inizia l'operazione Cina però senza i suoi big Stasera a Trento il primo test verso il mondiale contro la Romania Ci sono comunque out fuori dai giochi Bellinelli, Gallo e Datome Nazionale maschile di pallavolo con Blengini che per la seconda fase di allenamento Ha scelto di far lavorare i suoi giocatori a Bari dove dal 9 all'11 si terrà il preolimpico Contro Camerun, Australia e Serbia E raduno anche per la nazionale femminile di volley con Capitanate guidata da Davide Mazzanti Anche per loro preolimpico dal 2 al 4 agosto contro Kenya, Belgio e Olanda Questo è uno scontro tra alcune pantere dell'Italia e la Pantera de Cruyff nell'Olanda E' uno degli scontri principali per il girone Si gioca dal 2 al 4 agosto a Catania Lasciamo la pallavolo e passiamo al calcio Il calcio con un campionato di Serie A che ieri ha visto l'estrazione e la composizione del calendario Con un calendario ufficializzato alla prima giornata in questo modo Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genua, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan e Verona-Bologna Mercato per il calcio con il Milan che porta a casa Leo e Leao Non è un gioco di parole, insomma sono due nuovi giocatori che a Giampaolo piacciono parecchio e che quindi potrebbero fare parte della rosa Oggi c'è il test per loro due e la firma Atalanta in campo questa sera contro il Norwich È il secondo appuntamento inglese per la formazione di Gasperini in preparazione della Champions E poi a Bologna amichevole, Bologna batte Schalke 0-4 3-2 Completati i gironi della Serie C Il girone B è quello che ci interessa da vicino E riguarda Modena-Vicenza, questi gli accoppiamenti Triestina-Gubbio Virtus Verona-Padova e Vispesaro su Tirol Con Vicenza e Triestina naturalmente che vorrebbero recitare Un ruolo importante quest'anno nella Serie C Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà l'eccellenza Il campionato di eccellenza nonostante abbiamo due squadre Mestre e Montebelluna che giocano nel campionato di Serie D E che sarà occasione per quanto riguarda la nostra troupe Di riprendere e di mandare in onda delle gare di questo campionato Però l'eccellenza la seguiremo con dettagli particolari Con servizi, interviste telecroniche un po' per tutta la stagione A proposito di questo campionato Ieri si è radunato il Treviso Lo ha fatto a Nervesa, al Gipoviani Mentre mercoledì mattino, domani Appuntamento a Treviso per la presentazione delle maglie E il presidente Sandri del Treviso consegnerà la maglia Al primo cittadino Mario Conte Che ha lottato, tra virgolette, parecchio Per dare una nuova fisionomia al nuovo calcio Treviso Che sembra finalmente in ottime mani adesso Ieri sera invece al Barco di Pieve di Soligo Il ristorante Barco di Pieve di Soligo Presentazione dell'eclisse Carini-Pievigina Noi c'eravamo, sentiamo il tecnico Stefano Della Bella E allora, presentazione qui al Barco di Pieve di Soligo Presentazione dell'eclisse Carini-Pievigina 2019-2020 Stefano, ci siamo? Sì, ci siamo Mercoledì e giovedì facciamo due serate di testa Dopo lunedì si parte seriamente Per 15 giorni facciamo due allenamenti Dopo dal 19 faremo la sera per diluire Fino al 25 dovrebbe esserci la prima partita di Coppa E dopo l'8 si inizia seriamente Seriamente vuol dire il campionato E per quanto riguarda le amichevoli? Amichevolo ne abbiamo 4 già preventivate Andiamo, inizieremo a Feltre il 10 Dopo concluderemo a Cison O qua in casa con la Cisonese il 20 Avremo dopo il 14, il 16, altri due Il 17, no? Il 16, altri due a Ponzano, sì E' contento della squadra? Avevi chiesto, hai ottenuto? Qualcosa abbiamo cambiato Perché parecchi giovani? Parecchi giovani, sì Ma anche qualche vecchietto Tra virgolette è andato via L'abbiamo sostituito Io credo anche con gente valida Che è venuta Logico che dopo è sempre il campo Che dimostrerà le scelte che abbiamo fatto Io credo che abbiamo fatto anche delle scelte Giuste E allora basta andare in campo adesso? Sì, il difficile sarà un po' amalgamare Perché ce ne sono diversi di nuovo E anche sotto ci sono diversi giovani Che sono venuti su E dunque dobbiamo essere bravi Soprattutto nel primo periodo Di riuscire a mettere insieme questo gruppo Dobbiamo lavorare duro Perché il campionato ci aspetta Sarà un campionato lo stesso Come era l'anno scorso Duro E con diverse squadre Che si sono rafforzate Qualche dichiarazione di qualcuno Che sembra che il campionato L'abbia già vinto? Tu mi conosci che proclami A me non piace farlo Anzi È bene star con i piedi per terra Da subito Logico che dobbiamo cerchiare L'avevo già detto Quando erano stati presentati i ragazzi nuovi Di essere un po' più continuo L'anno scorso Questo Chiederò alla squadra E dovremmo cercare di fare questo In questo campionato Ripeto Che c'è chi è arrivato da sotto Ha fatto squadra importante Chi è ritornato giù Ha fatto squadra importante Dunque credo che ci siano squadre Diffici da andare a fruttare Ma andremo a testa alta Come abbiamo fatto l'anno scorso Con qualsiasi altra squadra Ormai ci siamo Perché il calcio Comincia decisamente a muoversi Infatti come avete sentito La formazione dell'eclisse Si ritroverà un paio di giorni In questo 30-31 Fine mese Per i test E poi via Sui campi di solighetto Per iniziare gli allenamenti Un po' tutte le squadre Si ritroveranno Tra domenica e lunedì 4 e 5 agosto Per iniziare la stagione 2019-2020 Lasciamo il calcio Per passare All'imoco Volley Conegliano Che attende Attende la ripresa Degli allenamenti Con parte della squadra Saranno addirittura In 3 o 4 Ad iniziare regolarmente Dopo Ferragosto Perché poi tutte sono via Con le proprie nazionali C'è arrivato L'invito Per il campionato Del mondo Di volley femminile Dal 3 all'8 dicembre A Xaoxing In Cina E gli abbonamenti Stanno letteralmente Volando Abbonamenti Boom L'effetto Egonu Si è sentito Un aumento Del 25% Il precampionato Vedrà amichevoli Per Limoco Con Montecchio E si giocherà A San Dona di Piave Il 21 settembre Poi ci sarà Pomì E Bergamo Per continuare E tastare Naturalmente Il campo Sempre molto attenti Per quanto riguarda La nostra redazione Anche il campionato Pro 14 Del Benetton Treviso Sono state ufficializzate Le due amichevoli Di settembre Tra Benetton E Zebre Venerdì 13 settembre Alle 20 e 15 A Parma E a Treviso Poi il venerdì successivo Nuovo arrivo Intanto Ed è l'ultimo Sicuramente In casa Benetton Per quanto riguarda Per quanto riguarda Gli acquisti Diciamo così Lui è un piacevole Scoperta O riscoperta Era sparito Dai radar Della nazionale E delle squadre Che contano Per tanti motivi Infortuni E per altre Per altre cose Adesso Sembra un giocatore Finalmente ritrovato E lo abbiamo ritrovato Anche noi Sentitelo È Sarto Ho iniziato qua Il prestagione Per ora Mi hanno accolto bene Stiamo lavorando duro E si sta bene qua Quello che volevano Un po' sapere tutti quanti Insomma Il tuo ambientamento E come va con questo gruppo Ho buoni rapporti Con i ragazzi Con lo staff Quindi Mi trovo bene Se è dura Perché si lavora tanto Fa caldo Vogliamo far bene E Cerco di essere utile Con i permit Lo sono anch'io E quindi Ci facciamo forza E lavoriamo Diamo al massimo Ovviamente Mi piace questo Lo sono anch'io Questo permit Perché con la carriera Che hai Insomma Permito L'abbiamo dimenticato No? Sì Con alti e bassi Si sono trovati In un periodo Così senza squadra E lavoro Per tornare In alto Diciamo Si lavora bene C'è chiarezza Si vuole Mettere i dettagli A posto Finché c'è tempo E non si gioca Così quando inizia la stagione Così quando inizia la stagione Sarà tutto chiaro Sicuramente Per il treviso Soprattutto Che deve riconfermarsi Dopo un gran traguardo Dell'anno scorso E hanno già ribadito Che si vuole far bene Hanno puntato in alto E personalmente Ti sei dato qualche obiettivo Oppure no? Trovare squadra Prima di tutto ovviamente E poi un giorno Tornare A calcare Non si dice dai Però spero di tornare in vetta In bocca al lupo Grazie Era un Leo Sarto Molto Parco Molto tranquillo Quando abbiamo fatto Quest'intervista Ancora non era stata Messa la firma Sul contratto Con la Benetton Avete sentito Cercava solo E diceva soltanto Voglio una squadra Voglio avere la possibilità Di ritrovarmi E di rivedere Adesso la squadra ce l'ha È il Benetton E sicuramente Anche per il Benetton È un acquisto importante Questo di Leo Sarto Tra l'altro Vi consigliamo di guardare Anche il sito Della Benetton Perché trovate A firma Di BenTV Un servizio Simpatico Sul Sarto Insomma Sul Sarto E non vi dico altro Guardate perché è simpatico Parecchio La Ghirada In questi giorni E ne siamo stati testimoni È stata veramente Un crocivia Di rugby Mondiale Perché ad allenarsi Sui campi Della Ghirada C'era La Benetton O il Benetton Come preferite Che abbiamo visto Sentito E abbiamo seguito Poi la nazionale italiana E la nazionale inglese Una nazionale inglese Che sta preparando Il campionato del mondo Alla pari Dei ragazzi italiani Però Per questi giocatori Che sono stati salutati Dalla città di Treviso L'altra sera In piazza della loggia Beh diciamo che Per loro Ci sono I pronostici Favorevoli Del 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 campionato Del campionato del mondo Potrebbe essere Una delle vincitrici E aver Avuto la possibilità Di seguire I leoni Britannici Insieme Ai leoni Trevigiani Insieme alla nazionale italiana Alla Ghirada È sicuramente Vanto Per la città di Treviso Per la provincia di Treviso Che per quanto riguarda il rugby Vuol dire veramente Tanto e molto Abbiamo concluso Il nostro appuntamento giornaliero Noi ci risentiamo domani Sempre con lo spazio Dedicato al mondo dello sport Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti